ciao a tutti benvenuti sul mio canale allora oggi vi mostro dei semi permanenti che ho preso un po sono estrosa e un po sono di una marca che sto provando è una marca comunque che mi hanno detto molto buona allora iniziamo con il 3 in 1 della linea estrosa e praticamente è il persistence non so se si pronuncia così comunque va bene vi dico subito il numero è il 69 18 eccolo qua 69 18 è questo ed è bellissimo secondo me li metto così così vi ricordate anche qual è è questo qui per me è molto bello è sul verdino è un diciamo un tiffany io lo ho con la porporina quest'anno l'hanno fatto con la porporina ho preferito prendere questo della linea persistenza di quest'anno che praticamente non ha la porporina perché ho già un gel fatto con la porporina proprio identico spiccicato per cui ho detto inutile prenderlo poi ho preso questo che il new york e scusate che ho mosso la scrivania e è molto bello bello sia d'estate che d'inverno secondo me il 7109 ecco qua ed è new york ed è questo qui molto molto bello non so mai cosa fare io sulle mie unghie perché avendole così lunghe a parte che non hanno più forma sono orrende lo dico perché sono spesse ci ho ripassato sopra per fare delle prove poi ho messo questo colore non hanno più forma perché c'è tanta ricrescita vedete è assurdo tenere una ricrescita poi con un'unghia così lunga allora poi passiamo a quest'altro l'ho peso piccolo perché questo qui è un metallic cioè sono quelli diciamo perlati chi li chiama metalliche chi li chiama perlati il perlato non si vede per niente ve lo faccio vedere una volta applicato il lucido suo non c'è proprio niente di metallico proprio e ne di perlato c'è proprio una florescenza piccolissima non disturba affatto per cui l'ho preso mi piace molto non so come si legge precisamente in inglese io lo leggo come cioè lo pronuncio come lo leggo purple chic e è il numero 74 66 molto bello lo consiglio molto io l'ho preso in piccolo ero propensi a andarla a cambiare ma adesso vediamo come andrà e se va bene e comprerò il flagoncino più grande questo iacaranda bellissimo cercavo un colore così e l'avevo visto su instagram indossato da una modella che pubblicizzava degli infradito bellissimi oltretutto 71 16 lo consiglio molto soprattutto di questo periodo perché è un colore che non è rosa che non è fucsia che non è proprio lilla insomma c'è un po di tutto in mezzo ed esce meravigliosamente con la bronzatura calcolate che viene una punta più scuro sul video è bellissimo lo trovo molto fine come colore poi passiamo alla linea giapponese di quest'anno sakura e 71 25 è il numero dell'articolo è un semi permanente che sotto luce blu diventa florescente ma credetemi è bellissimo pure questo asce molto con l'abbronzatura scusate i guanti mi rimane questo segno incredibile ed è bello secondo me anche con la pelle chiara metto sul chiaro guardate diventa ancora più fine comunque è bellissimo e poi passiamo invece a questi nuovi semi permanenti allora sono dei semi permanenti americani a differenza di estrosa che è un prodotto italianissimo questo è il colore atlantis praticamente il lotto vi dico questo perché è lunghissimo la cosa più scomoda sinceramente di questo prodotto come pigmentazione è ottima l'ho trovata la stesura molto bella sulla tip come estrosa d'altra parte forse anche più carico per cui lo consiglio lo proverò penso oggi metterò uno di questi colori qua per me in modo che li potrò anche testare mi piace testarli il suo vestrosa lo so già che sono favolosi ma questo sinceramente non so se proverò questo l'altro o gli altri due colori insomma vediamo che esce fuori comunque molto molto belli e sono made in america infatti si chiama america niles e ne fanno una buonissima recensione passo all'altro colore mi ami scritto proprio così e il lotto dell'articolo è questo qua che vedete molto bello anche questo sempre credo in lampada fluorescente per cui sotto luci blu e questo da molto più sul rosa voi mi direte ma come mai hai preso due colori a parte che ne ho tantissimi molto simili anzi anche uguali di altre marche e questo da un po più sull'aranciato questo da un po più scusate un peletto su rosa fucsia sembrano uguali ma non lo sono per cui io li consiglio tutte e due perché c'è chi lo vuole più rosa e c'è chi lo vuole meno rosa sono molto molto ripeto simili ma diversi tra loro di poco ma diversi allora kate è un verde come vedete non è il verde che vedete qua sopra perché secondo me non corrisponde a questo verde il lotto è questo e a me è piaciuto tantissimo vi faccio vedere a me non corrisponde vedete cioè gli va vicino ma non è lui ed è bellissimo io cercavo proprio un colore così perché non è che strusa non ce l'abbia questi colori però volendo provare mi mancava questo colore o una cosa molto molto simile che gli si avvicina ma sinceramente si avvicina molto 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 però non è quello questo da più sul verdino giallo e questo da più sul verdino come posso dire più verso il tiffany però credetemi sono belli tutte e due ma questo mi ha colpito proprio tanto tanto e infatti sono propensi a proprio a provare quello vabbè speriamo bene perché con le unghie così lunghe tutti i colori sinceramente possono diventare un po volgari soprattutto per me che ho 51 anni però io me lo spero che venga carino non so quale fare vedremo proverò e poi dico così poi alla fine faccio uno velocemente ma vorrei provare sono sincera avrei messo uno di questi e sono sincera però voglio provare questi prodotti li testo di solito sempre su di me insomma per vedere la durata per vedere la stesura già ho visto che sono pigmentati benissimo per cui allora voi se mi volete consigliare ma in breve tempo mi dovreste scrivere proprio velocemente allora io vi saluto per il momento poi vi farò un altro video perché sono arrivate le lampade che io adoro che mi trovo benissimo e che consiglio pensavo che erano bianche sono bianche perla devo dire sono bellissime anche bianche perla anzi danno un tocco sulla scrivania particolare e io la chiamo scrivania comunque banco di lavoro un bacio a tutti buona giornata spero che i colori vi siano piaciuti se volete mettermi una recensione sul colore che vi è piaciuto di più mi fa veramente piacere e lo gradirei tanto un grazie ancora per tutti mi piace continuate a seguirmi spero di fare video sopra video e quel discorso dei colori col punteggio dei colori lo volevo fare d'estate ma purtroppo ho parlato con questo rivenditore e mi ha detto che bisogna rimandare a settembre poi vediamo insomma se è colpiranno credetemi un bacio grande a tutti e a presto ciao grazie